Se a Solofra c'è l'ok ad un impianto privato che può lavorare rifiuti umidi, di tutti i comuni campani fino a 50.000 tonnellate all'anno. A Teora l'impianto è in funzione benché in riparazione. A Montella c'è già un'altra richiesta di un biodigestore. Non si capisce a cosa serve ancora, che anche e soprattutto se la gestione dei rifiuti sia provinciale o regionale. I dubbi sul tappeto li snocciola il Comitato Provinciale di Azione. Per i calendiani di Irpinia ci sono in corso manovre con cui Palazzo Santa Lucia scavalca il territorio nella programmazione e nella gestione. Nelle prossime ore si conosceranno gli esiti del bando per la realizzazione dell'impianto biodigestore tra i vigneti Doc G. Ma i conti non tornano all'Irpinia. Potrebbe bastare un impianto da 50.000 tonnellate per abbattere i costi. Quello che si profila è un surplus che della provincia potrebbe farne pattumiera. A lato che la prossima settimana si riunirà per il primo consiglio d'amministrazione la richiesta di chiarimenti, politicamente la richiesta da parte di azione di prese di posizione. Per noi d'esta meraviglia il silenzio della politica provinciale e soprattutto dei consiglieri regionali che sulla materia appaiono del tutto assenti. Grazie. Grazie.